Il Movimento 5 Stelle è il primo partito nelle Marche col 35,6% alla Camera, ma è la Lega d'aver avuto il vero espluare rispetto alle precedenti politiche nella regione, passando dallo 0,69 al 17,4% dei consensi. Minniti non ce l'ha fatta, il ministro delle infrastrutture del Movimento 5 Stelle invece col Torti, si aggiudica al duello col sindaco leghista Pazzaglini, Patassini e un iconongerlino vincente e poi il caso Cecconi, eletto ma coinvolto nel caso Rimborsopoli. Nelle acque del porto le ricerche di un uomo scomparso, misa controllato speciale con monitoraggi costanti tra allerta e paura per ora a scuola aperte. Si chiude la kermesse di fermo dedicata all'eccellenza del territorio, Burian non ha fermato l'arrivo di visitatori, oggi il premio allo chef stellato Chico Cerea. Ultima giornata di regular season, con Civita Nova che supera Castellana Grotte nel primo turno dei play-off, la formazione di Medei se la vedrà con piacenza. Buonasera da Etc Marche, bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale, come di consueto in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. Dunque il post voto, quello che è uscito dalle urne e come cambia anche la visione politica delle Marche dopo questa tornata elettorale. Abbiamo seguito lo spoglio in diretta questa mattina dalle 7 all'interno di Buongiorno Marche in una diretta ampia dalle 7 alle 9 e 30 per raccontarvi e per darvi già dalle prime ore di questa mattina i nomi degli eletti, cioè dei marchigiani che saliranno al Parlamento. Con l'aiuto della grafica possiamo fare il quadro di un voto che ha detto chiaro e tondo come le Marche siano state conquistate dal Movimento 5 Stelle che è diventato appunto il primo partito della Regione. Alla Camera gli eletti del Movimento 5 Stelle sono Terzoni, Cataldi, Emiliozzi, Cattoi, Cecconi, Rossini, Parisse, Silvestri e Giulio Dori. Per quello che riguarda invece gli altri eletti degli altri partiti, per quello che riguarda la Lega Nord, Patassini, Paolini e Latini, Forza Italia riesce ad eleggere Fiori e Baldelli per il Partito Democratico, Morani e Morgoni. Per quello che riguarda il Senato, anche in questo caso Movimento 5 Stelle che elegge 5 senatori, Romagnoli, Agostinelli, Accoto, Fede e Coltorti. Per quanto riguarda invece gli altri, il Partito Democratico elegge Verducci, Forza Italia Cangini e la Lega Pazzaglini. Pazzaglini che riesce a conquistare questa elezione scontrandosi e duellando fino alla fine con il Ministro delle Infrastrutture del Movimento 5 Stelle, Mauro Coltorti, che però sale lo stesso appunto come detto al Senato. E poi le tante storie tra cui anche quella di Cecconi che conquista l'elezione sia nel collegio uninominale di Pesaro e anche come capolista nel proporzionale collegio Marche 2. Cecconi però che è stato coinvolto del Movimento 5 Stelle nello scandalo Rimborzopoli e di cui si sono tra virgolette perse le tracce. Anche di questo ha parlato oggi una delle lette pentastellate, la Terzoni, in diretta su ETV Marche Radio Center Music. Per quello che riguarda le Marche, dicevo appunto, negli uninominali è davvero una vittoria a mani basse per il Movimento 5 Stelle, mentre avanza il testa a testa Coltorti, Pazzaglini e l'unico seggio che al momento non sarebbe andato al Movimento alla Camera. Invece ha visto l'affermazione di Patassini a Macerata. C'è il caso però, Patrizia, di Andrea Cecconi a Pesaro, vincitore all'uninominale, il quale ha detto dopo la questione rimborsi mi dimetto. Che cosa succederà? Allora, qui bisogna vedere se viene accettata la proposta di Cecconi di ritirarsi, perché ancora non è detto al 100% e quindi bisogna vedere se deve essere votata in aula. Nel qual caso subentrerà il primo dei sostituti nel plurinominale, nel quale caso dovesse entrare anche Martina Parisse e per quanto riguarda l'uninominale, in base alla nuova legge, si dovrà tornare ad un voto proprio nel Collegio di Pesaro. Questo per quello che riguarda il Collegio di Pesaro. Avete avuto notizia da questo punto di vista? Cioè rimane ferma l'intenzione di Cecconi di dimettersi? Oppure, come qualcuno malignamente pensava, una volta è eletto, chi si è visto si è visto? No, guarda, lui ha già firmato la lettera. Però non so dirti di più perché ancora è passato troppo poco tempo da questo scrittinio che non c'è stato tempo neanche di contattare né lui né altri deputati a Roma. Per quello che riguarda un totogoverno invece, ovviamente le ore sono molto, sono i primi momenti, è difficile poter dare scenari. Però Grillo ha detto, ha ribadito, no, ha inciuci. Con questi numeri che cosa sarebbe realistico pensare? Esistono dei punti sui quali collaborare con altre forze? Allora, i punti su cui collaborare ci sono perché i nostri 20 punti di programma sono in comune con tantissimi altri partiti e movimenti all'interno del Parlamento. Noi abbiamo la nostra squadra del governo che voi tutti conoscete, tra l'altro abbiamo anche un proposto di ministro marchigiano che è proprio Mauro Coltosti. Sì, esattamente. Voi abbiamo la nostra squadra, abbiamo i nostri 20 punti e cercheremo di convogliare tutti. Come abbiamo detto, l'unico non grillino vincenti in un collegio alla Camera è l'esponente della Lega, Tullio Patassini. Noi maceratesi abbiamo fatto un'altra scelta. Abbiamo fatto non una scelta di protesta ma una scelta di governo. Quindi il fatto che sia stata premiata la Lega e la coalizione di centrodestra è segno che nel maceratese in particolare, come nell'Osimano, c'è una voglia di governo molto, molto forte e qui noi dobbiamo dare comunque risposte. Secondo lei quanto hanno pesato i fatti di Macerata e anche il post-sisma? Perché molti comuni che fanno parte del collegio 3 sono quelli che hanno subito le scosse nel 2016. Beh, è evidente che il terremoto è stata un po' una caporetto per il Partito Democratico. Era evidente, io vorrei rifarmi a un famoso scrittore dicendo che era un po' una cronaca una morte annunciata. È evidente che i marchigiani dopo 18 mesi hanno bisogno di risposte e queste risposte è doveroso dargliele. Nelle cose semplici, come abbiamo sempre detto, ormai l'ho messo a questa parte, nelle piccole difficoltà quotidiane, senza andare a cercare situazioni particolari. E anche sul terremoto è il nostro primario impegno iniziare a dare delle vere e vere risposte in termini di meno burocrazia e più lavoro per i marchigiani, soprattutto per le imprese e per i tecnici marchigiani. E quindi anche quanto può aver inciso tutto quello che è successo a Macerata, quindi il cortocircuito che si è creato dopo la morte di Pamela Mastropietro, il fermo del gruppo di nigeriani e poi la sparatoria da parte di Traini, che lo dobbiamo dire, è stato candidato con la Lega a Corridonia. Questo forse è anche un elemento scomodo per questa campagna elettorale. È stato, lo è stato. Guardi, la cosa fondamentale è che l'esigenza di sicurezza che hanno i maceratesi e i marchigiani è un'esigenza normale e è soprattutto forte. È evidente che ci sono state delle difficoltà di gestione di questa immigrazione che comunque hanno portato alla ribalta Macerata, purtroppo non per fatti positivi e questo è stato evidente. Chiaramente il Partito Democratico ha persi tutte le marche, quindi Macerata è stato solo un aspetto di tutta questa vicenda, perché altrimenti non si spiegherebbe perché Ancona o i Roccaforti come Pesaro e Urbino hanno sostanzialmente dimezzato i loro voti. Quindi la sicurezza dei macerata e dei maceratesi è fondamentale, ma è stata una concausa, non è stata la causa. I maceratesi vogliono cambiare. Il caso Cecconi è il ministro dell'interno Miniti battuto nel collegio uninominale di Pesaro. Anche di questo ha parlato Matteo Renzi nella conferenza stampa nel quale ha annunciato la volontà di lasciare il PD? Simbolo di questa campagna elettorale è per me l'assoluto stridente contrasto in uno dei 231 collegi. Mi riferisco a quello di Pesaro. A Pesaro il centrosinistra ha candidato un ministro che ha fatto un lavoro straordinario. Di fronte a quello che era il principale problema lasciato dal mio governo in eredità al governo Gentiloni e a uno dei problemi forse simbolo di questi anni a livello italiano ed europeo, mi riferisco come ovvio alla questione dell'immigrazione, questo ministro Marco Miniti ha saputo cambiare la percezione del problema e anche la sostanza della soluzione del problema con un lavoro che gli viene riconosciuto anche dagli avversari. Eppure che cosa è successo a Pesaro? Il candidato del Movimento 5 Stelle per definizione degli stessi 5 Stelle è impresentabile, non per definizione vostra, non per definizione nostra, non per definizione di un soggetto terzo, ma per definizione di chi ha candidato il signor Cecconi, quel candidato scappato dalla campagna elettorale, andato in vacanza perché considerato impresentabile, è riuscito ad avere la meglio contro ogni valutazione di merito. Se ci fate caso è il simbolo di questa campagna elettorale sulla quale dovremo riflettere a lungo. E' ovvio di conseguenza che io lasci. Sconfitta netta quella di cui prende atto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Una sconfitta netta, c'è poco da dire. Gli italiani vogliono provare i populisti, è un dato inequivocabile. Noi siamo minoranza nel paese e i populisti sono maggioranza. Quindi a loro l'onore e l'onere di fare il governo, a noi il compito di fare l'opposizione. Questo mi sembra il dato più chiaro di queste elezioni. Ovviamente c'è molta amarezza, sapevamo che il vento era contrario, così come in tutti i paesi europei, per le forze del centro-sinistra, però ci aspettavamo un risultato migliore, anche perché ritengo che questa esperienza di centro-sinistra al governo abbia prodotto tante cose positive per il paese, però gli italiani probabilmente ancora in grande sofferenza, ancora in grande difficoltà hanno chiesto un cambiamento più radicale ed è giusto che coloro che hanno vinto le elezioni ci provino. Ovviamente io mi auguro per l'Italia che facciano il meglio possibile, ma adesso l'onere del governo è loro. Abbiamo portato la cruce del governo per tanti anni e adesso la palla passa a qualcun altro. La pagina ora della cronaca, la rapina ieri sera al bar Roma a Macerata, subito presi però i malviventi, vediamo. Poco prima delle 21 di ieri sera, due uomini a volto coperto sono entrati nel caffè Roma a Macerata, detto Ninetto, ed hanno rubato, minacciando il barista con una pistola, tutto il denaro che c'era in cassa. A questo punto però la squadra volanti e la squadra mobile insieme si sono recate immediatamente in un bed and breakfast della zona e hanno trovato uno dei due malviventi, campano ma residente in un comune terremotato maceratese, è stato trovato in possesso dell'arma, una scacciacani, una parte del bottino e i vestiti usati nella rapina. Tutto questo grazie al lavoro di prevenzione e di monitoraggio della polizia che già aveva notato i due da diversi giorni nella zona del bar e soprattutto con un'intuizione di un agente del luogo di domicilio dei uno dei due. Le notizie e i controlli effettuati ovviamente dall'ufficio di prevenzione generale del soccorso pubblico unitamente a quelle che sono state le determinazioni operative dell'ufficio investigativo della squadra mobile hanno consentito di rintracciare i responsabili di questa rapina, di assicurarle la giustizia ma soprattutto si denota anche il particolare attaccamento al servizio, quindi spirito del dovere di un appartenente alla squadra mobile che anche libero dal servizio aveva degli elementi che poi sono stati appunto trattati congiuntamente dai due uffici che hanno consentito di risalire ai correi dell'evento delittuoso. Il campano arrestato già ai domiciliari poi ha collaborato con gli inquirenti e stamattina alle 5 e mezza è stato arrestato il complice civita novese ma residente in centro storico a macerata, da verificare ancora la posizione di un terzo uomo. Ancora cronaca, 5 denunci di un arresto, questa volta siamo ad Ancona e il bilancio dei maxi controlli degli agenti della polizia di Ancona organizzati durante lo scorso weekend, blitz scattato attorno alle 23 di ieri sera quando i poliziotti della squadra volanti sono intervenuti in via Giordano Bruno ad essere sorpresi i due ragazzi perquisiti mentre parlottavano animatamente sotto il porticato di un condominio. Dopo averli identificati i agenti hanno trovato alcune dosi di marijuana per entrambi è scattata la denuncia. Circa un'ora dopo altro intervento delle volanti questa volta in via delle Grazie e qui a finire nei guai tre giovani sorpresi mentre fumavano marijuana tra i cespugli. Anche loro possedevano alcune dosi di stupefacente con gli agenti che hanno sequestrato la droga e li hanno denunciati. Ultimo intervento sempre in serata ad Osimo dove una pattuglia della squadra mobile dei poliziotti della stazione hanno perquisito un cliente di un bar già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato infatti sorpreso con un sacchetto contenente 12 grammi di cocaina. In casa inoltre nascondeva altri 10 grammi di polvere bianca. Per lui è scattato sia l'arresto che la segnalazione alla prefettura. Ed ora la pagina del maltempo con l'allerta a Senigallia. Questa mattina scuole è chiuse e c'è la notizia anche di un uomo disperso nelle acque del porto di Senigallia con le ricerche che riprenderanno domani mattina sin dalle prime ore del giorno. Vediamo. Scattano le ricerche a Senigallia per un uomo di 71 anni originario di Ostra ma residente a Milano caduto nel Misa intorno alle 13 di oggi. Immediati gli interventi del personale di terra all'allattamento della macchina dei soccorsi del centro secondario di soccorso marittimo di Ancone insieme all'unità navali della capitaneria di porto di Ancone di Pesaro e a un elicottero dell'aeronautica militare di Poggio Renatico. All'attualità le ricerche rese anche difficoltose per le avverse condizioni mete hanno dato esito negativo e proseguiranno sino all'imbrunire per poi riprendere le prime luci dell'alba. Nel frattempo rientra l'allarme meteo. La protezione civile regionale ha diramato per la giornata di domani un'allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica, mentre continuato per tutta la giornata di oggi il monitoraggio degli argini del fiume da parte del servizio tutela delle acque di Ancone della regione Marche. Dalle osservazioni emerge una criticità nell'argine destro in prossimità del tratto compreso tra gli abitati di Vallone e Borgo Passera. Attenzione anche da parte dei cittadini che seguono l'evolversi della situazione attraverso gli aggiornamenti reperibili dal sito e dai social del Comune di Senigallia. Stamattina non è preoccupante la cosa, però i giorni scorsi sì. C'è sempre un po' la paura che... La paura c'è, speriamo che piove poco. Come cittadini vorreste magari una maggiore attenzione per... No, no, ce n'è troppa. Si sta esagerando per paura delle questioni. Quindi lei si sente tranquillo come cittadini? Sì. La gente è terrorizzata, come un po' di più è terrorizzata. Sperate che ci sia un monitoraggio più attento, soprattutto una polizia? Una polizia dei fossi, perché il fiume è buono e i fossi che sono brutti. Misa dunque contro lato speciale, monitoraggio costante, ma come abbiamo ascoltato dalla voce dei cittadini torna l'allerta e anche la paura e torna anche la questione sul tavolo delle vasche di espansione. A quasi quattro anni dall'alluvione si attende ancora la realizzazione delle vasche di espansione in località Brugnitto di Senigallia. A rallentare l'inizio dei lavori, vari rimbalzi dalla provincia alla regione su chi dovesse occuparsi della gara di appalto. Come spiega l'avvocato Roberto Paradisi, consigliere comunale di opposizione per Unione Civica. L'indice va puntato contro la provincia di Ancona e la realizzazione delle vasche di espansione. Queste vasche di espansione sono ferme con un bando che è partito dal 2015 ed ancora oggi è immobile. Noi nel 2016 e poi nel 2017 abbiamo presentato delle istanze e poi un ordine del giorno in Consiglio Comunale per diffidare la provincia ad andare avanti con il bando che era stato incredibilmente sospeso. A settembre quest'ordine del giorno è stato approvato anche con i voti della maggioranza. dal Consiglio Comunale di Senigallia e soltanto dopo questa diffida che noi abbiamo mandato tramite questa iniziativa di Unione Civica e Forza Italia, finalmente a gennaio, dopo tre anni dal bando, qualcosa si è mosso e la provincia ha assegnato il 9 gennaio, se non sbaglio, in via provvisoria ad una cooperativa di Forlì i lavori per le vasche di espansione. Il procedimento non è ancora finito perché adesso c'è stata la procedura del ribasso e quindi ci sarà spiegazione che questa cooperativa dovrà dare perché ha proposto dei ribassi. e quindi probabilmente il lavoro verrà definitivamente aggiudicato, credo entro l'estate, spero entro l'estate, ma siamo già a tre anni, poi dovranno essere fatte gli espropri, dovranno partire i lavori, quindi per altro anno e mezzo, due anni, non si parlerà ancora di vasche di espansione pronte. Noi ora ci fermiamo ma subito dopo di noi arriva Marche Flash.